In realtà quando mi dici limite dell'arte contemporanea mi viene da pensare qualche cosa che non si può fare o non si può superare però sappiamo molto bene che il giorno di oggi arte sta entrando e sta spuntando in tantissimi ambiti per cui voglio dire forse vantaggio dell'arte contemporanea che non ha dei limiti però allo stesso tempo vanno riconosciuti gli ambiti che arte effettivamente sta su cui sta collaborando elaborando. Ok forse prima di tutto per rispondere questa domanda devo dire che io sono iraniana per dire che io in questo momento sono estraniera nel territorio in cui mi trovo e che questo già per sé cioè la mia identità attuale di vita quotidiana è un manifesto di contrasto e limite dico anche come la prima domanda non tanto limite come un confine una cosa che non si può superare ma una cosa da considerare da indagare da fare delle ricerche per vederlo da tanti punti di vista e da quando io mi sono trasferita qui in italia dopo iran sempre mi sono chiesta se una persona che da una parte di un confine fosse dall'altra parte come vede quel confine ovviamente intendo dire un po' anche il discorso di punto di vista di una persona in questa parte di confine e l'altra parte di confine ora un esempio molto semplice attuale che posso dire discorso di confine tra israele e palestina se vediamo che un israeliano è dall'altra parte di confine di e vede questo confine da quell'altro punto di vista e molto spesso nella mia ricerca faccio questo tipo di ragionamento cioè cerco di costruire un'esperienza di questo genere per il mio pubblico che in qualche modo offro la possibilità di guardare dall'altro punto di vista dall'altra parte di confine posso dire una serie di lavori che ho fatto sulla guerra che in quel momento nei lavori tornano a due anni fa tra due tre anni fa la serie si chiama war is over e principalmente i contenuti del lavoro vengono da documentazione archivi di guerra di siria per esempio in quel lavoro e ho chiesto in qualche modo dal mio pubblico ovviamente occidentale perché il lavoro sempre è stato esposto negli spazi nell'ambito occidentale di interrogarsi come possono vivere e se possono accettare una parte di questa guerra per finirlo in qualche modo per esempio un insegno neon molto semplice è scritto var is over che però è installato invece di orizzontale in modo essere leggibile è installato verticalmente che è illegibile ma illuminante dopodiché il pubblico arriva a questo insegno essendo sotto può più o meno capire cosa si è scritto però per attraversare questo per come è stata allestita questa mostra il pubblico deve accettare un braccialetto con un nome di una vittima di guerra cioè ovviamente in quel caso non si capiva tanto bene che questo è nome di chi è come perché cioè che cosa è quel confine però in quel caso e per esperienza di questi anni che ho lavorato appunto nell'ambito occidentale ho capito un po' anche la paura dell'ambiguità per un pubblico in un comfort zone e dall'altra parte estremità di vita in qualche modo sì anche quel lavoro faceva parte appunto di questa serie che anche in quel lavoro l'immagine delle immagini venivano del fotoriportage di guerra di Siria dei momenti in bilico in qualche modo i corpi che sono tra vita e morte come sappiamo quello che succede nel fotoriportage di solito sono cioè poi fotoriportage di guerra sono momenti critici che un fotografo riesce a fotografare però nessuno sa dopo quel momento di conflitto se quella persona lì dentro quella foto è sopravvissuto meno anche questo fa vedere un limite forte di percezione e anche un contrasto forte tra vita e morte in quel lavoro che io mi mettevo in posa per all'incirca 40 minuti come i corpi nel fotoriportage invitando il mio pubblico a indagare ricercare e ricostruire e ricostruire un'eredità per questi corpi poi tu puoi immaginare che in quell'evento che c'era anche musica comunque un comfort zone i ragazzi che stavano addirittura bevendo tutto e in questo tutto comfort zone in questo evento tutto bello costruito c'è un corpo in una situazione che non sappiamo che cosa è e rimane per 40 minuti in questa situazione quelle persone che mi stavano disegnando perché invitavo il pubblico appunto di fare dei disegni durante questa posa e alla fine invitavo il pubblico a chiedere dove sono e dove c'è da dove viene questa figura questi questi corpi dove vanno a finire da dove vengono e anche tipo le tensioni che ci c'è dentro questo corpo ovviamente in questi questo è l'ultimo anno più di più di un anno sappiamo molto bene che è molto difficile molto importante e molto critico ritrovare il senso di questo loro ruolo sia per gli spazi e funzioni che hanno avuto o non hanno avuto in questo l'ultimo anno che per le necessità di interventi artistici io penso che l'arte di oggi non è tanto un ambito autonomo che io mi chiudo a produrre gli oggetti forse questa cosa può sembrare anche banale però visto che ci sono tantissimi ambiti di conoscenza e tantissime necessità tantissime emergenze se vogliamo io penso che il scenario dell'arte contemporanea è un scenario multidisciplinare interdisciplinare nel senso che se comunque va il ruolo di ogni singolo artista va a incastrare con un altro ambito di conoscenza questa responsabilità anche di artisti di oggi per svelare non intendo tanto in un modo profetico però svelare anche le possibilità di vedere nei modi diversi dall'altro punto di vista sempre ci ho pensato all'ultimamente che siamo in un momento storico molto importante sia per la pandemia che forse è importante anche per il sistema dell'arte che per anche tutti i conflitti che stanno succedendo nel mondo geopolitico di oggi che il ruolo dell'artista può assumere anche un ruolo di storico come vediamo anche di primi anni di novecento che c'è stato o tutti i fenomeni, tutti gli eventi di anni sessanta che sono stati documentati tramite artisti sinceramente è un po' difficile rispondere a questa domanda perché poi va già a fare con il sistema dell'arte appunto i collezionisti e gestione del sistema dell'arte però la cosa che io penso è che magari bisogna trovare nuovi territori in cui intervenire e applicare l'arte un esempio molto chiaro che posso portare è rigenerazione urbana per esempio ora tu mi stavi indicando un esempio come appunto in qualche modo sostenere artisti per quello che producono o realizzano io vedo anche al contrario dove portiamo gli artisti per intervenire o l'artista dove decide di intervenire per entrare nel sistema questo è una cosa che ci credo fortemente che è scoprire e aprire nuovi territori in cui può applicare una visione poetica artistica che di sicuro può essere di aiuto uno delle realtà che sono in una struttura a porto con loro è lo spazio di Palazzo Poli che se non è sbaglio avete avuto anche interviste con loro che per quello che stanno facendo sia dallo spazio satellite che portino via come progetti arte contemporanea che poi anche lo spazio dedicato agli arti alla ricerca artistica, allo studio mi sembra uno degli spazi e delle realtà cioè belle differenze perché cioè sta prendendo questa sua organicità per un pubblico non solo del mondo dell'arte c'è proprio uno spazio dentro una certa quotidianità dall'altra parte delle ultime cose che sono successe che mi hanno colpito tantissimo i ragazzi che hanno fatto diventare hotel e torre Guelfa a una residenza artista io ho imparato a convivere con l'arte contemporanea da quando sono nel contesto occidentale poi c'è anche un'altra cosa da dire che tantissimi metodi nell'arte contemporanea in generale nel sistema dell'arte iraniana forse non ci sono per cui penso che l'arte contemporanea in Iran sta vivendo un altro tipo di realtà che ancora ha bisogno di ritrovare il senso di proprio contemporaneità ora a parte di arte contemporanea quello che vedo io però non so è perché io ho imparato a convivere con l'arte contemporanea in questo concetto occidentale forse se io fossi stata in Iran negli ultimi anni pensavo in un altro modo questo bisogna viverci per capire davvero come funziona però per la mia esperienza più che altro è un po' la questione del metodo di sicuro una performance un'azione, un'installazione che come metodo viene fatto cioè io posso fare qui sarà proprio decontestualizzato per poter esporre lì o per eseguire lì in realtà il mio sito è in costruzione e arriverà tra non tantissimo questo però i lavori che saranno che sarebbe possibile visitarli uno posso segnalare in centro culturale di Noboli che è un'installazione grande quasi nove metri che siamo in attesa di apertura di questo nuovo centro culturale che sarebbe un polo dell'arte contemporanea nella zona Noboli che si chiama gli antenati ci parlano e un altro evento che ci sarà a breve 11 giugno a Casa Giotto a Vicchio ci sarà un'azione una lettura più un lavoro video performance che si chiama